Nuovo gioiellino, è arrivato il momento di cambiare il tappetino. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. È già passato un anno da quando ho acquistato il mio tappetino personalizzabile Asus ROG con il logo del mio canale Loretech. Ho acquistato il mio nuovo gioiellino, il Mac Studio. Avevo bisogno di un tappetino nuovo. Volevo matchare la postazione con dei colori più chiari. Quale miglior modo per acquistare un nuovo tappetino XXL? Ed è per questo che mi sono rivolto a Logitech con il suo nuovo logo Logi, il Desk Map. In questo video vedremo l'unboxing del mio nuovo tappetino, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing vi faccio vedere un attimo la confezione. Allora, Desk Map, The Studio Series by Logitech. Qua abbiamo le misure 70x30. Tappetino confortevole, anti scivolo. Qua abbiamo il nuovo logo con la scritta Logi. Tappetino grigio chiaro con bordi in grigio oscuro. Da quest'altra parte abbiamo un po' di caratteristiche. Qua abbiamo un'anteprima. Chiaramente con le tastiera bianca si matcha perfettamente con un bellissimo contrasto. La base è anti scivolo per aderire perfettamente al tavolo. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e lo andiamo ad unboxare. Hanno messo una valanga di scotch. Allora, eccolo qua. Molto molto carino. Semplice. Minimale. Ve lo faccio vedere in tutta la sua lunghezza. eccolo qua. Poi ve lo metterò a confronto anche con gli altri tappetini che ho. Andiamo a rimuovere il mio vecchio tappetino personalizzato Loretech, Asus Republic of Gamers. E andiamo a posizionare il nuovo. Eccolo qua. Allora, questi sono i materiali. Comunque sicuramente di pregio. Molto molto bello. Al tatto. Dovrebbe essere anche molto comodo per far scivolare il mouse. Soprattutto anche per non rovinare il piano della scrivania. Ma direi di andarlo a sistemare subito. Ecco, l'abbiamo posizionato. Poi chiaramente gli angolini sono un po' rialzati ma poi con il peso piano piano si sistemeranno. Andiamo a riporre le nostre periferiche. Logitech K780. Mouse MX Master 3. Opinioni a caldo. Qualità costruttiva sicuramente al top a primo impatto. Non ha niente da invidiare alle marche più blasonate come Corsair o quelli di Asus ROG. Mi piace tantissimo questa colorazione grigio chiara con i bordini grigio scuri che si matcha benissimo con la mia scrivania bianca. Riprende anche il colore del Mac Mini e del Mac Studio. Quindi sono veramente molto contento. Ho scelto questa dimensione un po' più piccola perché non avevo grandi esigenze di dimensioni più grandi. Ci sono comunque altri colori. Io l'ho acquistato su Amazon. Vi lascio poi qui sotto il link in descrizione. Però adesso voglio sapere la vostra. State utilizzando dei tappetini mouse XXL? Ne avete sentito parlare? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi. Da Logi e Loretec era tutto. A noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!